Ok, io sono l'infei, la cinesina. Oh, Ramon, bella questa mappa, bella, bella. 2, 1, go! Ok, cerchiamo di prendere subito la spada. Ok, l'apre un mio compagno, va bene. No, regà, questo c'è straforte, questo. Sto skin con sto un botto. Guarda che ha la spada gigante. Oh, che mossa gli ho fatto? Mamma mia. Questa squadra è che è in protagono. Ok, gli amici è morto. Ciccato, ciccato. Ma perché lui mi fa così tanti da... Oddio! No way! No way! Ok. Però ce la stai alcavando bene. Bravo! Va bene. Sono l'unico che c'ha tre dite. E infatti ora mi uccidono subito. Porco schifo! No, ha morto un mio amico che c'è una vita ora, dai. Ok. L'importante è fargli un po' di danni per caricare la potenza. Che almeno puoi... No, non devo morire. Non devo morire. Ok. Non so come mi sono salvato. Aia, aia, aia. No, non devo morire. Non devo morire, non devo morire. Va bene, va bene. Pronto, sono limitati, quindi va bene. No, nel mio amico c'è una vita, però. Va bene. Mettate un bel po'. Oddio, che boccia tirate. Ok. Hanno intrambe la vita loro. Sono l'unico con le vite. Ok, sto andando come avrei visto. Madonna, mi sto a rango. Madonna. C'è... Vado di un picchiata. No, mi ha coperto. Ok, intato. Ok. Manca l'ultimo. Mamma mia, che bestia. GG, 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 GG. GG. Tutto. Ok, io sono sempre la cinesina lì nel fai blu. Oh, il mio amico è quello di prima forte. Bello. Ok, la spada. Ok, i coltellini. Belli questi, belli. Comunque, questa stima è bella torta. Mamma mia, di lasciare. Oh. Double hit. Ancora un hit. Ancora un hit. Ancora un hit. Ancora un hit. Mamma mia. Double hit. Madonna. Mi sto orando. Ma gli sto... Mi sto orando. No. Oddio. Sbaglia. Bravo. Hittato. No, ho sbagliato. Non volevo tirare il cannone. Hittati, entrambi. Hittato uno. Hittato. Oddio. Bella. Sì, state? Sto caricando la potenza, eh. Sto caricando la potenza. Ora li uccido. Perché dovete sapere che... Dopo un bel po' che ti ricolpi, ti carica la potenza e ti ritieni sempre più forte. Il mio amico è morto. Ecco, visto? Visto? E mi sa che anche ora ce l'ho. Ok, la bomba? No. Eh, ora non c'ho la spada. Eccola. Ok, aprivo. L'atto. Hittato. Ho la bomba. Il tacco è la bomba. Non è morto? No, il mio amico è morto. Il mio amico fa una vita. Oh, cosa sto dicendo? Ora questo mi trollo. Di tirare i cannoni. Mi sto continuando a tirare i cannoni e non se ne accorgono. Weh, 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 weh. C'è coltellino. Mamma mia. Ma quante volte mi sto utilizzando? Ma quante volte? Uccidio. Aglia. Aspetta che lo voglio... Non è. Io ho tirato le spade in volo. Non ci credo che l'uccido con la bomba. No, aspetta, lo voglio uccidere in una maniera più senso. Non ci credo che mi stessi uccidendo. Ma cosa sto facendo? Oh, non mi salta. Non mi salta. Con la bomba. No, ho preso la mia speciale bomba. Oh, però. Mi ha ucciso. Ma vanna che bestia. Abbiamo giunto. Vabbè, la c'ultima. Questa basca la perdiamo perché non abbiamo metto due di file. E veramente c'è gente forte ora. Ma hanno preso la mia bomba a casa. Dopo vado, ma. Mi chiedi? Ok. Scusate. No, no, però. Ci sono due brawler della stessa specie. Raga, io sono la cinesina blu. No, se magari non capite. Il dato. Raga, questi qua sono fortissimi. Questa è un saluto di Benten, che è rara. Mamma mia. Il dato. Comunque, raga, dove c'è il gioco online, eh. Per farmi capire. Quindi. Infatti, alcune volte, quando gli ari, esce la disconnessione. Perché non voglio giocare. Con la bomba. Ok. Oh, no. Ma quante parti, mio compagno? Oddio. Mi ha erato. Ho il dato il mio compagno con la bomba. No, mi ha rubato la cosa. Il dato uno con sta cosa. Oddio. Ficcate. No, io voglio timore. Ma perché non timore? Ok, ho ucciso uno. Ho ucciso un altro. Raga, li abbiamo arati. Io non sono mai morto, però. Ora, raga, lo uccido con le mosse semplici, quelle meno pesanti. Tipo queste. Ma cosa fa? Ma è andato addosso la sua stessa bomba. Ho tirato un canno. Un altro. No, se lo prendevo anche con questo. Si è disconnesso, avete visto? Perché quando, cioè, lo troviamo, lui va via. Si è riconnesso, signori. Ma che fa? Non è qua. Non vi ho intanto questa. Ah, raga. Dato che siamo in compagnia, compro una leggenda con voi. Leggendo. Uno, due, tre, tre. Ehm. Ehm. Guarda alto, sinceramente non lo so. Ah, sono già finite? Ma così quasi che andrò. Andrò è in mano. Ok, raga, grazie per essere stati con me. Bella.